Vediamo ora la struttura delle revisioni Cochrane, per aiutarci a capire come leggerle. Le revisioni Cochrane hanno tutte la stessa struttura. Abstract è riassunto strutturato. Plain Language Summary, invece, è riassunto in forma discorsiva semplificata. Background fa l'introduzione al problema preso in considerazione. Objectives indica lo scopo della revisione. Methods si compone di più parti. Criteria for considering study after review dichiara i tipi di studi presi in considerazione. Search methods for identification of studies, la descrizione del tipo di ricerca fatta. Data collection and analysis, la selezione e l'analisi dei dati. Results riporta i risultati finali. Discussion, la discussione dei risultati. Autors conclusion, le conclusioni degli autori. Sotto vengono riportate tutte le references analizzate per preparare la revisione. A seguire, alla voce characteristics of studies, troviamo delle schede degli studi inclusi nella revisione. L'analisi statistica dei risultati, compresa la meta-analisi, si trova subito sotto, alla voce data and analysis. Qui troviamo anche forest plot. Infine, troviamo gli appendici e qualche informazione tecnica. Per qualsiasi dubbio o curiosità, visitate il sito della biblioteca. A presto! 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 A presto!